Non è che riprendi questa... Palazzo Tiene, lo scrigno dei tesori di Vicenza. Se noi di Rete Veneta dal 2017 stiamo insistendo perché l'antica sede di BPV diventi un museo statale aperto al pubblico, è perché questo patrimonio dell'UNESCO appartiene alla storia della città, ma le opere che contiene sono di livello planetario. Se Parigi ha il suo Louvre, Madrid, il Prado, Londra, la National Gallery, San Pietroburgo, l'Hermitage e Firenze e gli Uffizi, perché mai Vicenza non può avere il suo Palazzo Tiene? Abbiamo citato musei che espongono opere degli stessi artisti che arricchiscono l'antica sede di BPV, che dopo il crack della Banca Popolare deve essere restituita alla sua città, formalizzando ciò che è. Palazzo Tiene già appartiene alla storia, alla cultura di Vicenza, e allora perché non trasformarlo in un volano per rilanciare il turismo e il commercio nella città del Palladio quando sarà finita la pandemia? Ricordiamo a tutti che sotto la spinta di Rete Veneta nel 2017 il governo aveva accolto un ordine del giorno in cui si impegnava formalmente ad acquisire al patrimonio dello Stato Palazzo Tiene e a metterlo a disposizione della rete museale. Allora come oggi il ministro dei beni culturali era Dario Franceschini, a cui noi di Rete Veneta abbiamo recentemente scritto una lettera aperta e a cui anche oggi ci permettiamo di ricordare che Palazzo Tiene merita di essere riscattato non solo perché il governo lo ha promesso, ma anche perché è di interesse nazionale. Per dimostrarlo abbiamo già citato le opere di Jacopo Tintoretto. Oggi parleremo di un maestro tra i più affascinanti della pittura del Rinascimento, Jacopo Bassano, che compare anche tra gli artisti eterni che arricchiscono con le loro opere il Louvre di Parigi dove il suo I due cani da caccia è esposto nella sala della Gioconda proprio vicino al famoso dipinto di Leonardo da Vinci. A Palazzo Tiene ci sono due capolavori di Jacopo Bassano, La Madonna con il bambino e L'Orfeo che incanta gli animali, straordinario dipinto dell'ultima stagione del maestro rinascimentale, le cui opere sono esposte in tutto il mondo. Ora, sostenere che Jacopo Bassano sia un artista di Valenza Veneta è vero allo stesso modo per cui Raffaello è un pittore di Urbino e la sua arte a Valenza marchigiana. Insomma, cosa aspetta lo Stato a riconoscere l'interesse nazionale di Palazzo Tiene e ad acquisirlo? Servono altri esempi, altre opere, altri autori di valore mondiale esposti nell'antica sede di BPV? Beh, non ci sono problemi, ne parleremo la prossima puntata, sì perché per noi la questione non finisce qui ma continua.